Hey là, buongiorno, buonasera, buona notte e benvenuti nel nostro canale Io sono Allie, io sono Laura e siete su Allie Abri Channel Come avete già letto dal titolo, siamo finalmente giunte con un video haul Pienamente, totalmente estivo Finalmente è arrivata l'estate, possiamo appunto andare fuori, andare al mare Dopo un anno che è stato molto, molto traumatico e complicato Dopo appunto anche la maturità, ovviamente adesso possiamo finalmente goderci Questi giorni estivi, pieni di sole e di caldo ovviamente Quindi abbiamo deciso di fare un bel po' di acquisti totalmente appunto incentrati sul tema dell'estate Su questa piattaforma di e-commerce che tutti conosciamo essere appunto Wish Ne abbiamo già precedentemente acquistato da questo sito barrap Ci siamo sempre trovate veramente benissimo, i prodotti sono super di qualità e arrivano in tempi abbastanza brevi appunto Wish, ok, i prodotti arrivano in mesi In realtà non è vero, con Wish Express possono arrivare anche dai 7 ai 10 giorni Quindi appunto gli ordini, l'unica becca appunto che arrivano tutti separatamente Però abbiamo raccolto tutti gli ordini arrivati e li faremo appunto vedere in questo video Abbiamo cercato di essere il più estive possibile anche perché raga, io ho voglia di andare al mare Anche ho voglia di andare al mare, soprattutto ragazzi a bellare giustamente E di riempirmi di accessori super mega estivi come questa collana che potrebbe essere un nuovo stockistino Ma lo vedrete appunto tra poco Noi vi ricordiamo comunque di seguirci su tutti i nostri social Instagram, TikTok dove ci chiamiamo Alliauri.channel, Pinterest dove ci chiamiamo Alliauri.channel tutto attaccato E di dare anche una sbriciottina al nostro sito di e-commerce www.alliauri.channel.it Perché sono anche partiti saldi sul nostro sito quindi adoro E tra parentesi abbiamo anche un codice sconto su Wish del 20% Da poter utilizzare 7 giorni Il codice si chiama Alliauri20 Quindi mi raccomando cosa state qui Senta fare dei danni estivi Esatto Direi di iniziare subito con il video Devo dire che scegliere prodotti su Wish non è molto semplice Esatto perché ci sono tantissime categorie Dalle più strane alle più appunto banali Come esempio delle ciabatte C'è cartoleria, beauty, trucchi, skin care Robbe tipo da mare, robe da spiaggia Esatto gonfiabili di tutti i tipi ragazzi Quindi siamo rimaste sulla categoria estive Abbiamo trovato questo brand che tutti conoscono all'interno di Wish Sono appunto le Hawaiianas È un brand certificato Credo si dica così nel caso ve lo scrivo qui su Wish E c'erano tantissime tantissime infradito Esatto Noi volevamo tantissimo di noi infradito Perché le nostre ovviamente si sono rotte l'incestate Certo perché puntualmente le ritiri fuori dal cassetto E ti dici certo finalmente i miei piedi non suderanno più nelle ciabatte Invece no Si rompono Tra l'altro tra le cose che si rompono Guardate anche la mia bellissima unghia Quindi mi hanno preso appunto delle ciabatte Io ne ho prese ben due Perché Laura non può prenderne una come ho preso io Come fanno tutti i comuni mortali Se sentite la sua motivazione Allora queste sono appunto per casa perché sono più easy Queste sono per andare al mare perché sono più estive Più colorate Le cose si fanno bene Hai ragione Hai ragione Che fai tenebrivi No Ce ne erano davvero di tantissimi modelli Però noi Alla fine preferiamo sempre questi Quelle con il cordino più spesso Unisex Perché si rompono meno facilmente rispetto a quelle più sottili Io come potevo non prenderle se non rosa Tra l'altro queste qui sono bellissime Perché hanno il lacetto bianco e il sottorosa Sono giuste 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 Che se mi incresce il piede Cioè mannami già Sono taglia 37,38 Invece le mie sono appunto questo blu elettrico Con la striscia bianca E queste qua appunto saranno per il mare Sono un 39,40 Mi stanno alla perfezione Mentre invece queste qua sono tipo color Tiffany Sono tutta tinta Bellissime Sono veramente fantastiche Per stare a casa sono comodissime E anche queste qua sono un 39,40 Noi le hawaianas le amiamo Sono delle ciabatte super mega Bellissime E averle trovate su Wish è stata una sorta Sì in realtà quelle che avevamo erano originali del Brasile Perché aveva preso la nostra mamma Non so qua quando sono andati a Rio Però vabbè A me si sono rotte due anni fa Esatto Vediamo l'ora di utilizzarle per andare al mare I nostri piedini ci ringraziano Esatto Secondo prodotto che vi mostriamo in questo bellissimo haul Sono appunto delle collanine I gioielli nei nostri haul Non possono mancare ma Poi sapete che queste state Stanno andando di moda Queste collanine stile anni 2000 Ovviamente noi siamo state le ultime ad acquistare Ma anche se siamo a metà estate Noi comunque shopping lo dobbiamo fare sempre Esatto Sono veramente stupende Averle trovate su Wish è stata una svolta Perché c'erano di tantissime fantasie Sono sempre indecise Perché ragazzi anche scegliere non è sotto facce No per niente Però ci siamo un sacco divertite Perché abbiamo scelto un sacco di fantasie strane Carine e poi perfette per quest'estate Io l'ho presa bianca È bianca con appunto questi cerchiettini gommosi Che sono una sorta di perline Con quelle colorate diciamo che Smezzano il tutto Esatto Secondo me quando sono abbronzata Fanno veramente una figurina bellissima Invece io l'ho presa ovviamente gialla e azzurra Con questo coso qua dorato E delle altre perline colorate Diciamo che smezano Ma poi sono super belle C'è anche al tatto È una cosa La sensazione bellissima Sì Queste qua appunto quando si va al mare Sono perfette Le puoi regolare sia diciamo giro collo Che molte più lunghe Perché la catenina appunto è lunga A noi piace un sacco giro collo E una cosa abbinata a queste bellissime collane Che abbiamo preso È un'altra cosa che va Iper mega Stramega Di moda E noi siamo state le ultime ovviamente A prenderle Ossia i phone straps Credo che si dica così Spero anche che si dica così E ne abbiamo presi anche stavolta tre Indovinate chi ne ha presi due? Laura certo Questo si sa Ne abbiamo presi due uguali Per fare le gemelline Ma il telefono della Aurora Sta registrando Però comunque il concept è quello Tra l'altro Sia io che l'Auri Indossiamo una delle nostre cover Che trovate sul nostro sito E hanno la particolarità Di avere appunto Il buchetto Per il phone straps Ah però Solitamente tutti lo attaccano Tipo qua Ma chi sono le più brave Belle Stupende Che hanno le cover Con l'attacco per il phone straps All'Auri Dunque l'abbiamo preso appunto Due uguali Che sono questi di questa fantasia E un terzo che è molto più colorato Adesso lo tiro fuori Anche di questi ce n'erano Di tante mie fantasie E io li avrei presi tutti In realtà eravamo stra sorpresa Perché non pensavamo di trovarli L'abbiamo trovati Allora questo qui è il mio Ce l'ha uguale anche l'Auri Attaccato al suo telefono È fatto appunto Dalle stesse perline E c'è scritto Love sia di qua che di qua Alcuni dettagli oro Ma molto bello Molto carino Con il nastrino nero E questo qua invece È molto più pazzarello Molto più fantasioso Sto sempre con la scritta Love E con altri appunto Nischetti colorati Questo fiorellino è davvero bellissimo Io sono andata a metterne due Ecco ho pensato Quello rosa Più per le cover Tipo rosa Bianca Questo qua per le altre Non so se tipo Si deve mettere al polso Per fare tipo le foto Allo specchio O vabbè anche così Pensavo Cioè ragazzi Mi sembrano tipo Sapete i portatelefoni Di quelli che sempre vanno a conchiglia Però è davvero bella Super mega chic E poi meglio corta Che Poi ragazzi Più stivo di così C'è non so io veramente 2016 vibe check Mi piace tantissimo Sì ragazzi Noi abbiamo fatto così Tutta la giornata Quando ci è arrivato Sì davvero Comunque trovate tutti i link Qui sotto in info box Direi di passare al prossimo acquisto Direi anch'io Altro articolo che vi mostriamo Sicuramente l'avete visto Nella copertina Perché ha questo fantastico Telo Noi appunto l'abbiamo preso Con l'intento di metterlo al mare Perché è gigante E ha questa fantastico Ma verrà Per le spiagge libere È perfetto Perché metti sotto questo E poi metti sopra il tuo asciugamano Così almeno occupate lo spazio Può anche appendere al muro Se avete un muro tanto grande Perché è gigante Unica pecca È che leggermente di materiale Sintetico Però ce lo si aspetta Anche da un prezzo così conveniente Ma almeno se fai così La sabbia si scrolla subito Anziché No però devo dire Che la fantasia Mi piace tantissimo Anche qui ce n'erano Tantissimi colori Per decisione Questo qui mi ricorda troppo Vibes 2016 check Ragazze tumblr Quelli che ci attaccavano Alla parete Poi ci mettevano le lucette Fatto sta che sicuramente Lo porteremo al mare Ma soprattutto Nelle spiagge libere Questo è fantastico Ovviamente Questo con la posarelli Perché è un po' più 2016 vibes E noi appunto L'abbiamo preso però Con l'intento Di fare una combo perfetta Con l'articolo Che vi mostreremo Adesso Esatto Allora Ovviamente Dove la podi la testa Se vai al mare In una spiaggia libera Con questo bellissimo telo Su un cuscino Ma su un cuscino qualsiasi No Siamo agli avori Non solo un cuscino qualsiasi Sì Il cuscino di Joesno Ragazzi È veramente bellissimo Appunto abbiamo trovato Su Wish questa fodera Con la fazza di Joesno Sono svenuta Cioè proprio ho detto Questa è mia Non avevamo idea Potessimo trovare anche cose Fan girl Fan boys Su Wish Ma poi avete anche il prossimo acquista Perché quella è proprio stata Tantissimi Una federa con Joesno E scritto Winter is coming Winter is coming E non vedo ragazzi Di metterla al cuscino Di portarlo nelle spiagge In realtà si può mettere anche Con tipo il cuscino Quello gonfiabile Così non mi uscita la testa È fantastico Aurora sei un genio Io sono un genio ragazzi L'accoppiata vincente È telo Più cuscino Perché soltanto Le vene intenditrici di mare Si portano il cuscino Sì perché ragazzi Dopo vent'anni di spiaggia Abbiamo capito esattamente Finalmente cosa dobbiamo portarci Cosa evitare Ecco com'è la fodera Con dentro il cuscino È bellissima Cioè è stupenda Adoro Adoro Ragazzi ma questo articolo Siete veramente pronti È sempre parte Del fan girl Star Wars Trono di spade Questo qua lo unisce Cioè io non so come sia possibile Ma questo qua lo unisce Ma fa sempre parte Di articolo estivo Perché è una maglietta Maniche corte Come le nostre Che trovate sul nostro sito E può essere perfettamente Utilizzata come tipo Magliettina per andare in spiaggia Ma noi lo utilizzeremo 24 ore su 24 Ok Con calma Con calma The throne is mine Ovvero il trono è mio Iniziamo con calma Cioè la morte nera Dietro di Star Wars E Darth Vader Seduto sul trono di spade Con la spada Con la spada del trono di spade Io non lo so Cioè non siamo pronti per questo Allora Se voi sapete Noi siamo veramente veramente Fissate sia con il trono di spade Che con Star Wars Che metteva insieme Le nostre due passioni Più grande A mani in corte Per sfoggiarla d'estate Noi siamo a morte Ovviamente ne abbiamo presa una Perché non sapevamo Come sarebbe arrivata Ma è perfetta Faremo un giorno ciascuno Verrà Aurora No non ordineremo un'altra Ma non importa È vero faremo così Siamo veramente rimaste Super positivamente colpite Super morbidissime E noi la stradoriamo Comunque just for info Noi abbiamo preso una taglia L Appunto per averla comoda Per poter andare in spiaggia Magari anche senza i pantaloncini Esatto Perché si arriva più lunga Ecco Abbiamo l'ultimo articolo Che non c'entra molto Con tutto quello che abbiamo parlato Fino ad adesso Ma c'entra sempre con l'estate Sapete che la skin care È importantissima Soprattutto appunto Dopo la spiaggia Dopo il mare Ma soprattutto in generale Dopo l'estate Perché c'è caldo La pelle è suda E quindi bisogna idratarla tantissimo E noi siamo anche patite di skin care Ci piace Soprattutto mettereci le cremine La sera Ci idrata la pelle Questo qui è stato TikTok A influenzarsi Esatto Ragazzi non è un cuore? No È una specie di massaggiatore A resina Esatto Ed è fantastico Innanzitutto è bianco È bellissimo E serve tipo per togliere le rughe Per lisciare la pelle Siamo assaggiando Passare la pelle Comunque dopo una giornata di mare Perché ragazzi E di sole È stracciata anche andare al mare Ha veramente tantissimi movimenti Che si possono fare Quindi dobbiamo studiarli Allora pian piano Tutti Perché un oggettino Può fare davvero tantissime cose E allora Il nostro shopping Appunto termina qui Speriamo tanto che vi sia piaciuto E vi sia stato di vostro gradimento Magari fateci sapere Qui sotto nei commenti Qual è stato l'articolo Che vi è piaciuto di più Forse tipo gli accessori Mi sa Iphone straps È stato l'articolo Che insieme alle ciabatte Sono state le cose Che mi hanno più stupito positivamente Perché sono proprio La vibes di questa estate Esatto Se anche voi acquisterete qualcosa Da Wish O se avete mai acquistato Da loro Esatto E vi ricordiamo Che appunto abbiamo Quando ci sconti Nel 20% Utilizzabile 7 giorni Noi comunque vi ricordiamo Vi aspettiamo anche Su tutti i nostri social E anche sul nostro sito E adesso salutiamo 10 persone Scelte dal video precedente Iniziamo da Lucrezia Un bacione Sakina Un bacione anche a te Sì andremo in vacanza Non ti preoccupare Sì Valentina Un bacione anche a te E auguri in ritardo Martina Un bacione Vittoria Un bacione anche a te Antonella Un bacione Luciana Un bacione anche a te Samira Un bacione Elisabetta Un bacione anche a te Noi vi aspettiamo con il prossimo video Ciao